Musica Buongiorno a tutti e bentornati nella nostra galassia Cyberpunk 2077 è stato annunciato ormai più di 5 anni fa e molti fan del gioco e degli sviluppatori sono desiderosi ovviamente di giocarci naturalmente molti vorrebbero partecipare a una beta di Cyberpunk 2077 per testare e soprattutto per migliorare il gioco prima dell'uscita o semplicemente per poterci giocare prima tuttavia lo sviluppatore CD Projekt ha ora rivelato che non ha programmi per una beta di Cyberpunk 2077 infatti su Twitter nell'account ufficiale di Cyberpunk un utente ha chiesto se ci sia un piano per l'alpha o per la beta ma CD Projekt Red ha detto che non ha nessun piano questo fa storcere un po' il naso a tutti i giocatori e probabilmente anche qualche sviluppatore perché ovviamente Cyberpunk è caratterizzato da un mondo enorme e molto aperto e di conseguenza aver avuto o aver la possibilità di fare un'alpha di giocare un'alpha e di giocare una beta può dare soprattutto indirizzi e consigli agli sviluppatori per poter sistemare tutte quelle sfaccettature che magari gli sviluppatori stessi non riescono a vedere l'altra news è che pur essendoci stata a San Valentino se vi ricordate l'immagine di Cupido che riguarda ovviamente Cyberpunk 2077 in cui sul fucile c'erano due bellissimi numeri beh quei numeri non significano nulla e per il momento CD Projekt non ha rilevato alcuna data di uscita si pensa nonostante tutto che ci sarà una data di uscita al più presto possibile ma che plausibilmente andrà nel terzo quadrimestre del nostro anno corrente con questo è tutto GG a tutti quanti grazie a tutti